A ridosso di una roccia, che aveva retto i bastioni del castello, alcuni ragazzi lavorano il caciocavallo impiccato. Un'ampia fetta di pane riceve il formaggio colante, che si spande e si amalgama, e con l'aggiunta di un bicchiere di aianico, cosa vuoi di più dalla vita? Al lavoro tra panni, panelle e taralli, una donna intravede qualcosa o qualcuno che sembra turbacca e si segna col segno della croce. In fondo c'è un uomo, vicino a un fuoco ardente, visuale di scorci di irpinia. Tre donne cuociono e dispensano frittelle con pomodoro e una foglia fresca di basilico. Una di loro solleva la pastella e la tiene sospesa per qualche secondo affinché e una donna intravede. Grazie per la visione! Grazie per la visione!